Bentornati a Verona Economia, torniamo a parlare di salute e di sanità. Oggi un'indagine condotta dalla federazione Cismo Fesmed ha consegnato una statistica molto interessante e anche un po' preoccupante a dir la verità. Andiamo a vederla sul sito di veronaeconomia.it. Fuga dagli ospedali, l'89% dei medici veneti è pronto a lasciare. Situazione critica per la sanità regionale dove la forza lavoro è allo stremo. Appunto dicevamo una percentuale molto alta di professionisti che o vorrebbero cambiare lavoro o vorrebbero ritirarsi addirittura dal lavoro. Insomma numeri abbastanza preoccupanti. Dicevamo che commentiamo stasera assieme al segretario Veneto Giovanni Leoni di Cimo Veneto. Benvenuto segretario. Benvenuti a voi, grazie per l'invito. Chiariamo, innanzitutto lei è un medico chirurgo, è al fronte quindi questo tema chiaramente la riguarda anche in prima persona. Ci siamo un po' allarmati per questa percentuale molto elevata e non pensavamo che fosse così alta. Chiaro, usciamo da un biennio per voi medici difficilissimo che vi ha provato a livello psicologico e fisico. Ci commenti questa statistica appunto che a noi in redazione ha colpito? Partiamo da prima della pandemia. Facciamo un salto a dicembre 2018 quando l'allora direttore dell'area sanità e sociale, il dottor Domenico Mantuanci, forniva a noi proprio come Cimo Veneto la statistica della mancanza di 1300 medici sui circa 8000 che ci sono come medici dipendenti a tempo indeterminato nel Veneto. Mi mancavano 150 anestesisti e 150 medici del pronto soccorso, questo prima della pandemia. Naturalmente la situazione è stata acuita perché in questi tre anni vengono a mancare 500 medici in più per pensionamenti vari di missioni non coperti. Quindi la torta dell'impegno quotidiano deve essere divisa per meno persone. E prova ne è quello che trovate sulle statistiche come numero di ferie non godute in percentuale e ore straordinarie fatte. Piccolo particolare, oltre 250 ore di straordinarie all'anno le ore non vengono pagate perché? Perché chiaramente devono essere recuperate a tutela della salute del lavoratore. Questo è scritto nel contratto. Poi nel lato pratico uno continua a lavorare perché qualcuno del lavoro deve per farlo. Se mettiamo in moto questa situazione e la paragoniamo a quello che è poi l'evoluzione della categoria medica, capiamo che i più giovani, che vedono come sono finiti i loro colleghi più anziani, cominciano a essere perplessi per quanto riguarda il lavoro in ospedale. Una volta il posto in ospedale pubblico, se non addirittura l'università, era sicuramente una meta ambita. Certo, c'è chi voleva fare con l'evoluzione in generale, ma anche quella è una categoria che è delle crisi profonde per quanto riguarda le vocazioni. Quindi il problema è tornare ad avere un'appettibilità per il seguito sanitario pubblico e al primo posto sono le condizioni di lavoro. Al secondo sono naturalmente gli stipendi che devono essere proporzionati all'impegno lavorativo e anche a tipo di reddito diciamo europeo, perché alla fine noi siamo come Italia quelli che hanno gli stipendi più bassi in tutta quanta l'Europa. A questo punto, l'ultimo punto che c'è, noi dobbiamo anche avere un'evoluzione verso la professione nel senso femminile, perché ormai sotto i 40 anni il 60% degli iscritti agli ordini medici sono donne. Sono donne che sono entrate in tutta quanta la vita dell'ospedale e quindi hanno dei tempi di dedicare anche non solo al lavoro, dove c'è un'ora di contratto che abbiamo dovuto sforzare che viene sforato sistematicamente, ma anche alla famiglia come madri, mogli, figli, una vita normale. Insomma il medico ospedaliero deve tornare ad avere semplicemente una vita normale. Una vita. Citiamo alcune percentuali che avete comunicato attraverso una nota stampa. Insomma la federazione dice che solo l'11,4% dei medici ospedalieri veneti, potendo scegliere, continuerebbe a lavorare in un ospedale pubblico. Il 35,5% fuggirebbe all'estero, il 22,5% sogna la pensione, il 16,4% preferirebbe lavorare in una struttura privata ed infine il 14,2% sta ponderando anche la possibilità di dedicarsi alla libera professione. È un mercato del lavoro che cambia, mancano anche le nuove leve? C'è un problema anche di ricambio generazionale dottora? Sì, mancano in maniera importante perché noi abbiamo avuto un taglio per quanto riguarda i sponsor di specialità per molti anni, si laureano 10.000 medici e si rispecializzano 5.000 medici. Solo recentemente dopo lunghe lotte da questo punto come sindacati e ordini finalmente con il Ministero della Salute siamo arrivati ad avere 14.500 borse di studio ogni anno per quanto riguarda i nostri laureati per recuperare anche quelle dell'anno prima. Però una specializzazione ha bisogno di almeno di 4 anni per essere completata e quindi in questo momento noi abbiamo anche una carenza da questo punto di vista come rincalzi. Sicuramente una proposta può essere quella di fare girare questo enorme numero di specializzanti attraverso le reti informative che pure esistono e che devono essere ampliate. Quella chirurgica è già attiva, per esempio in varie AS del Veneto, è meglio da poter avere degli specializzanti che imparano un po' il mestiere vicino ai medici più anziani, stanno chiaramente con leggi dell'università, si fanno i loro corsi, però vivono anche da una mano in quelli che sono gli ospedali tra quanto la regione. Questo potrebbe essere un modello di esportazione perché visto l'aumento improvviso di borse di studio, naturalmente c'è anche uno spazio fisico e anche istruttivo da completare per quanto riguarda l'istruzione di tutti quanti questi nuovi medici da questo punto di vista. Dall'altra parte sicuramente bisogna cominciare a pensare a premiare di più, a far diventare più attrattivo o almeno a non disincentivare coloro che desiderano fare i medici nell'ospedale pubblico, che vuol dire urgenza, emergenza, ripetibilità, turni di 20 o 24 ore completi, sabate e domeniche che sono comunque da dividere per i turni, festività che sono sempre da contrattare nell'equip, chi fa il Natale, chi fa Capodanno, la vita di sempre e di tutti i turnisti. Però queste persone, tutti quanti coloro che hanno lavorato nei reparti Covid in questo periodo con gli scafandi per loro tutto il turno di lavoro e mi associo anche per gli infermieri, per gli ossa, tutte queste persone qua devono essere premiate, il loro impegno deve essere riconosciuto. Un riconoscimento tangibile perché i ringraziamenti fanno piacere, però se ci vuole qualcosa anche di tangibile per chi viene esposto di più sarebbe meglio. Le famose pacche sulla spalla, insomma, si fanno piacere, però dopo un po' sono anche ininfluenti. Rimango un attimo su un altro passaggio che ha già citato all'inizio, lo ribadisco sempre dalla vostra indagine per quanto riguarda il numero delle ore di lavoro, pensate che i medici veneti dichiarano che l'82% è costretto agli straordinari, come ha ricordato Leoni, e di questi il 24% lavora più di 48 ore a settimana, tra l'altro violando la norma europea sull'orario di lavoro. Quindi, dottore, c'è anche non soltanto una violazione di quella che può essere una necessità intima di tutte le persone di avere del tempo a disposizione, ma anche a livello normativo si sta andando incontro a delle possibili di sanzioni, perché voglio dire c'è una normativa comunitaria e viene puntualmente anche in qualche modo non rispettata. Sì, intanto cominciamo a pagare tutti gli straordinari che i medici hanno fatto, che i primari li hanno firmati, i turni sono stati coperti al netto dell'assenza delle problematiche delle malattie e quindi qualcuno si è difeso il lavoro. Cerchiamo di trovare una soluzione intanto per gente che ha fatto 500 o 600 ore straordinari in un anno, perché comunque il lavoro andava fatto. Intanto che ci sono delle regole sindacali che bloccano alla fine queste situazioni, cominciamo a fare uno sforzo perché siamo in una situazione straordinaria e i reparti che hanno avuto questi problemi, che non sono tutti, cerchiamo di capirci, perché l'ospedale ha una valanga di reparti, poi ci sono coloro che sono coinvolti in un'urgenza e emergenza e non parlo solo del pronto soccorso o dell'estesia di redimazione, ma anche delle medicine, per esempio, trasformate recentemente in subintensive. Quando si parla di subintensive, le subintensive nella regione vento, in pratica sono le medicine, le pneumologie trasformate con dei respiratori speciali, che si chiamano NIVA, di alto flusso, in reparti Covid, a fare un lavoro estremamente più pesante per quanto riguarda il livello della medicina, che comunque è un reparto che lavora sistematicamente in urgenza. Mentre le chirurgie hanno i ricoveri in elezione e i ricoveri in urgenza, la medicina, in tutto il vento, ma ovunque, lavora sempre in urgenza. Ed è stato lo zoccolo duro che ha sostenuto l'onda del Covid, insieme chiaramente alla redanimazione e terapia intensiva, che però è parametrata già con più personale come medici ed infermieri. Allora deve essere delicato il ringraziamento per tutto quello che hanno fatto in questo periodo e per tutte quante le ore in più che hanno fatto, perché hanno dovuto sopperire ai pazienti normali e ai pazienti Covid. Molte volte i reparti sono stati divisi, i medici sono raddoppiati come turdi, perché chiaramente non si può cambiare sistematicamente divisa di lavoro, anche perché ci sono le regole di investizione ben precise, ma bisogna seguire sia i pazienti normali che comunque arrivano, sia i pazienti Covid. Quindi sono situazioni in cui l'etica e il dovere professionale hanno fatto da padroni, fino a quello che è la resistenza fisica di ognuno di noi e di quello che è la vita e relazione con la propria famiglia. Dottore, è stato molto chiaro e il messaggio è arrivato. Noi la ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera e ovviamente speriamo che si trovi una soluzione e si premino, come ha detto e ha sottolineato giustamente i colleghi, i suoi colleghi, ovviamente lei compreso per lo sforzo profuso in questi in particolare ultimi due anni. Ringraziamo Giovanni Leoni, segretario di Cimo Veneto, per essere stato con noi questa sera. Grazie dottore. Grazie a voi e buona serata. Verona Economia per stasera termina qui, diamo la linea più tardi al collega Alessandro Bonfante per il Tg Daily. A domani. Verona Economia per stasera termina qui, diamo la linea più tardi al collega,